Tu hai fame? Così Posso spoilerare che poi sento un bustoletto per asciugarti il sudore Ciao Gemini! Allora, come orvi sicuramente letto dal titolo e Simon arriva Dal titolo che Simon arriva? Non sei tu il titolo Simon! Adesso cominceranno a sentire il tuo rumore Vuoi fare anche tu il video assaggio Simon? Vuoi assaggiare anche tu Simon? Allora, questo è qui il video dove assaggiamo snack giapponesi che ci sono arrivati nella Japan Candy Box E' vero Simon? E' vero? Simon mi piace, guardatelo E' emozionato E poi lui, mi pare di aver sentito che è un bulldog cinese Cioè quindi è più o meno da le tue parti Simon Più o meno Quindi ti piaceranno questi snack? Più o meno Ma andate via Poverino No, non vuoi andare via Vuoi stare qui a rompere così nel sottofondo di lui Si sentia tutto il tempo E' così lecco ai piedi Bravo, così sporchi per te Allora, però prima di assaggiare Ho vinto la memoria quindi ho cambiato cosa Si Problemi tecnici Prima di iniziare ad assaggiare gli snack C'è una cosa Cosa dobbiamo fare? Una cosa da dire allora Cosa dobbiamo dire? Chi ha vinto? La cartolina Perché ha indovinato dove andremo Allora in realtà questo video Lo dico subito Mi si asciuga un po' il sudore Per il mio pazzoletto strategico Ci abbiamo anche il ventilatore Si ma qua fa troppo caldo No, non si appena peglia i tuoi capelli Guardate che carino Cambio look Nuovo look Che poi sempre vuole fare E allora Noi stiamo facendo questo video adesso Ma tra poche ore dobbiamo partire Si Fino alla fine ragazzi Allora la vincitrice è Matilde Carliter Che è stata bravissima Si è stato il quarto commento Si Era indovinato la città Ed era non facile Si Poi dopo tante altre hanno indovinato Ma va bene Neanche tante eh Neanche tante altre hanno detto Phoenix Si no Però La risposta è Phoenix Si Però c'era un'altra ragazza Anche adesso non mi ricordo Doveva andare a ricercare i commenti Che aveva scritto Tu avevi detto Che era giustissimo quel Ah ha scritto Quel commento Aveva scritto No ma un'altra cosa Perché noi alla fine faremo La valle Un viaggio No il deserto Del Mojave Però praticamente Allora noi faremo Si andremo Phoenix A casa dei amici Ma Di amici parenti Insomma Di persone un po' strane Poi le conoscerete nei video Nei vlog Forse Se si fanno riprendere E poi dopo però Noi vorremmo andare in giro In altri posti Quindi andare Che ne so Verso la California A nevata Quelle parti in là Quindi se riusciamo A trovare una macchina Non lo so Cioè Vorremmo fare un viaggio Però vediamo Comunque Vediamo un po' Cosa troviamo là Intanto Sappiamo che troveremo caldo La Java Fun Box Che è un'altra Noi la trovata Avevamo fatto La Java Fun Box Che oltre ai dolci C'erano anche Cose E invece questa è solo Di cose da mangiare E' figo perché Ci sono tutti i posti In cui la scatola è andata Si è vero Perché la spedizione È in tutto il mondo Quindi quello è figo Ci sono tutti i timbri Diversi posti E viene esattamente Dal Giappone Quindi Che Non l'hai visto vero? Ti ho svinciato Pochino Guardate Boom E quindi insomma Controllatemi nell'info box Perché mi hanno dato Un giveaway per voi Sì Quindi potrete vincerne una Sì E sotto troverete tutte le regole Tutte quante le cose Allora Intanto Quando le aprite trovate questo Che è figo Una carta pucciosa Che è questa Poi qui penso che questo Guarda Rilakkuma Questo Cioè Spiega cosa sono le cose In teoria Qui Sì Guarda Ecco Dice un po' cosa c'è C'è da dire che Queste box Ci mettono un po' ad arrivare Perché questa Che ce l'ho mandata a noi È di febbraio Febbraio 2017 Quindi Ci ho messo tipo un paio di mese ad arrivare Vabbè È quasi tipo San Valentino Ci sono scritte Le dieci cose Che ci sono dentro Però noi non guardiamole Vabbè Indovidiamo Intanto A me questo Ispira tantissimo A me questo Ti rilakkuma Anch'io ne voglio una Anzi metà Mmm Di che cos'è È marshmallow Mmm Con dentro L'abbiamo finito Una cosa tra Miele Oddio Miele al limone Miele al limone Miele al limone? No Calpis Ah Calpis è quello da Calpicco Mh Qua in spagnolo Si In Giappone c'è una bevanda bianca Si chiama Calpis È molto buona Credo che sia a base di riso Tipo riso fermentato E sa un pochino di limone Tipo di limone Quindi il sapore di limone Era esattamente il Calpis Molto buona Molto buona Sono troppo curiosa Non so se sono dolce o salate Sono super belli La confezione me la tende Oddio Hai visto cosa Guarda sono tipo patatine A forma Oh si è rotto A forma di orsetto Vediamo Di rilakkuma Salate Ciò queste scatole sono super fighe Perchè Potete vivere E per vivere intendo mangiare Queste sono patatine al riso amore In Giappone Vero o no? Sono patatine al riso Tipo Consistenza cheap steak Ma Al riso Giappone Questo È assoluto Sono via come tu Super Mario Vediamo un po' Sono curiosa Questo sembra troppo figo Cioè sembra troppo buono Dici che sono caramelle Guardate Sono Cose gommose Si Quindi Cioè figo perchè la puoi richiudere Dima cosa ho visto là sotto Cioè lì c'è un sacco di Ci sono un sacco di sorprese Eccole Vediamo Questo è Mario Cioè la La testa di La macchina Oh che carino È fatto molto bene Andiamo gli altri No Perché Mmm Di che sa Di una cosa strana Sono tutti uguali? No Mario Una moneta Quelle monete tipo coin Di nuovo Mario Mi sa che sono solo Mario e monete Io assaggio uno marrone visto che tu l'hai assaggiato Mmm Questo è Colgola Mirtillo Mirtillo Mirtilli che Qua si chiama In spagnolo si chiama Mora Azul Giusto? Mamma mia che buono Mora Azul Ormai siamo arrivati nel momento in cui io devo chiedere a Francesca se in spagnolo è giusto o no Come potete vedere infatti qua c'è scritto Mirtillo e qua c'è scritto Goagola Qua c'è scritto si Mirtillo e Goagola Adesso scelgo io Sai che non era una moneta? Sai che non era una moneta? Lo stesso Non ce ne deve bere qua o no? No Lo apro lo stesso ma forse bisognerà farlo dopo a parte infatti si È tipo un dolcino di budatema Ah guarda c'è lo stampino Ah che figo Troppo figo questo E bisogna mischiare le bustine per riscaldarle al microonde e poi versarle dentro allo stampino E poi dopo farlo raffreddare in frigorifero Due tre Non so cosa Questo sembra Simon così come si strella C'ha pure il sedere guardate Saranno delle specie di gelatine Troppo bene Vabbè questo l'ora non lo possiamo fare Questo lo possiamo fare nei vlog Lo facciamo nei vlog Quindi sì Vedete i vlog Io apro questo Sì Guardate Che figata Quello sembra troppo buono Sai che quello secondo me è molto simile al gelato dell'altra volta Non so se vi ricordate Commentate chi è che l'ha visto Allora io mi ricordo in Giappone che abbiamo mangiato Ti ricordi Era morbido Che profumo Dio Mordiamo insieme Io Senti Mamma mia Mordiamo insieme Tu una parte e io l'altra Guardate che figlio Vedete C'è così arrivato bene mozza Sì Però il materiale diciamo La consistenza È tipo un buffer È tipo un buffer Sì Buffer Mmm Che morbidezza Madonna Questo è il top Questo è il top Questo è il top Il batterà di là che cucino Con le cose là Sono i bastoncini tipo con il cioccolate Cioè la cioccolate nel centro E sono di due colori Sia bianco sia nero Con il tipo il buffer Vai Parla parla Io non me ne metto più Vabbè Questo qua De l'aereo non ci arriva Però no Ma che ci arriva È finito Questo in aereo non ci arriva Perché questi sì eh Ci arrivano Non ce ne stanno Non ce ne stanno Solo due Tutto forma di cacca Che schifo Mmm Non c'è quando Tocca a me Io cerco questo Io cerco questo Caramela di Doraemon Sembra All'uva Perché c'è risinato nulla Questo per la fine eh Qua più questo piace un sacco eh Oddio questo qua Con il cioccolato era troppo buono Ti aiuto con i denti? Sì Ora sono esattamente due Che profumo oddio Ah ma mi sa che sono gomme Senza che profumo buonissimo Cioè inutile che le leggo poi tra l'altro Sì Se forse si capisce un cavolo Io ne faccio solo mezza Completamente in giapponese Ne vuoi mezza? E' una bomba Mmm Che buona Questa è troppo buona Solo che posso dire una cosa che fa un po' schifo Mmm Nei denti c'avevo il cioccolato del docino precedente E adesso No io invece l'ho mangiato completamente Mmm È molto buona Però È troppo forte questa buona qua no? Dobbiamo rimetterla qua e mangiarla alla fine Perché Dobbiamo assaggiare altre cose che sono troppo buone Allora Io cerco questo Che E' uno stecchino Uno stecchino In realtà questo l'abbiamo già mangiato In Giappone no? No ma la maggior parte delle cose l'abbiamo già mangiato in Giappone In realtà Non è uguale, è più simile Questo Sembra Hamburger Sapore hamburger Però L'ultima volta era sapore takoyaki Ti ricordi? Si Un'altra volta avevamo mangiato anche uno tipo ai gambe E qualcosa del genere Allora questo qua è molto buono Guardate Avete presente i fonsi No? E' tipo un fonsi Un fonsone Al fonsone E' un fonsone E' un fonsone Con hamburger Quindi in teoria No guarda c'è scritto teriyaki Sa di teriyaki Hamburger teriyaki o che? Mmm Sa di teriyaki proprio C'è scritto teriyaki Ma sono troppo piccolini Attento che stai per mettere la mano sulla gomma Sono troppo piccolini questi snack Troppo buoni Non arriverà niente nell'aereo E dai fammelo assaggiare E' troppo buono Madonna che buono E' come i fonsis? Se non ti leghi le dita Così solo la metà Mamma mia Questo è troppo buono Ma sai che sembra? Un fonsi Che c'ha briciole Che c'ha briciole di dado intorno tipo Sappiamo che fa male sia il dado sia il fonsis Però intanto qui E' un'esperienza ragazzi Non dovete pensare troppo Alla figura Ehm Poi sono piccoline le cose Si in realtà si C'hanno soltanto Non so quante kg Per chi fa tutto il troppone Ah dovevi scegliere tu Comunque io ho già preso il triangolino Però questo che roba è? E' un limone guardate C'è scritto purè 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 al limone Juicy Lemon Gummy Paramelline in teoria No sarà una gomma Però guardate quanto è Perché gonfio così? No non si scoppia Oddio Se lo rompi Simon corre sicuramente verso lì qua No Super resistente Non ti spaccare i denti Ok Era tipo tutto vuoto Oddio si sono gommine Si Vediamo Gommine al limone Cuoricino Oh che carina Guardate Aspetta La vedete? Che va mi prendo in giro per caso Caramelo e bambone Questo è un buone A me di solito non piacciono le cose al limone Mmm 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 Aciduiamo un po' Adesso abbiamo questo perchè quell'altro con l'ultima cosa la dobbiamo lasciare per l'ultima perchè C'è una cosa che secondo me è troppo buona Queste sembrano Guarda queste sono della marca Meiji Sembrano delle caramelle Lampone, mela, limone e uva Perchè ci sono varie No ma questi sono quelli la I jelly beans tipo Si I fagiolini Guardate Allora io voglio quello rosa perchè sarà lampone Guardate oddio Li vedete? Mmm Ok E' difficile farvi vedere Mmm Vediamo Ma è morbido Si è morbido non l'avevi mangiato No non l'avevi mangiato io i jelly beans Mmm All'inizio sembra Amore All'inizio sembra duro C'è Arancio prendilo Ma non si fa così Si lancia in sopra Ma non così Che cosino Mo Simon del mangio No 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 Simon Lascia perdere Ok Che buono C'è la parte finale che penso sia La cosa migliore Il pezzo forte Tra l'altro Non so se sentite le campane della chiesa qui dietro Che le sono? Le otto credo Allora No sono le sette e mezza di sera Guardate che soli Queste campane suonano 15 minuti Ultima cosa Siete pronte? Sei pronto? Vediamo Simon sei pronto? Ta 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 Ehm C'è anche la versione al cioccolato Perché non ci hanno mandato quella? Boh Allora praticamente sembra Io preferisco pregola Sembra una specie di pizza Cioè fatta di barrette di cereali secondo me Si sta affinando la memoria No No Andiamo Andiamo E quindi niente Lauro Una giapponesina qualcosa di panda Choco flakes Choco flakes Così grosso? Si Ah io pensavo che era magari diviso Guardate come si apre C'è un vassoio Oh mio dio Mmm Questa è esattamente la fragola che ti piace E quel sapore che a me piace Quello di fragola finta Ah Si è un po' sbriciolato Ah questo un po' ti ha rovinato Si Purtroppo Guardate Che buonissima Hai diviso? Era diviso diciamo come pizza Criannolini Però si sono sbriciolati Qualcuno si è salvato Guardate tipo questo Anche me che mangerò io E che farei casino tu No Top Mmm Il pesce è il numero uno Mmm Questo è il numero uno No il pesce Per me questo è il numero uno Questo è il numero due In Giappone c'è C'è una roba Che Secondo me Posso solo scriverla come Cioccolata alla fragola Qual è? Questa Questo sapore Ah È tipo è cioccolata alla fragola È cioccolato bianco Con fragola Penso di sì Penso proprio È quello uno dei sapori che più piace a me Cioccolata alla fragola Oh Dio che buona Oh Dio che buona Che ne voglio un pozzettino Che ne voglio un pozzettino È l'effetto Japan candy box E ne hai detto a parlare giapponese Un gioco periglio dal letto No No Sei un po' togliendo E tu stai mangiando la fragola No Beh è buono Comunque Io vi consiglierei vivamente di andare nella tua box E vincere questa scatola Perché è molto molto buona E tra l'altro Tu devi avere anche un codice sconto Quindi chi non vince il giveaway può Comprarla con un sconto E niente Tra l'altro non è per forza una box Che devi pagare lavoramente tutti mesi Puoi anche prenderne solamente una Ed è figo questo Quindi per un'esperienza A noi piace tanto il Giappone Piace tanto la cultura E ci siamo andati diverse volte proprio per questo Soprattutto Francesca è andata tante volte E questo è molto autentico L'ho detto anche l'altra volta che avevo fatto un video simile Ma è molto autentico è vero Cioè perché quando andate in un posto Mangiate le cose del posto così È un'esperienza E questo è come un pezzettino È un pezzettino di Giappone messo in una scatola Cioè mandato ovunque Quindi quello è figo Tra l'altro noi volevamo fare le scatole messicane Ti ricordo Sì infatti E anche americane Perché qua si trovano tantissime cose Oltre alle messicane Anche americane Tipo i reels Se siete interessati a queste cose Ma magari raccontate nei commenti Avevamo già chiesto Però non molti hanno risposto alla domanda Quindi lasciateli i commenti Se siete interessati Così iniziamo a mandare scatole anche noi Sì dai magari possiamo fare una pagina su Facebook Non lo so Qualcosa così Per iniziare Anziché fare proprio il sito Così Vabbè E niente quindi Grazie mille per aver visto questo video Vi trovate tutto conto nel link box Come abbiamo già detto Ci vediamo in Arizona Sì Ci vediamo Ciao 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 E tadaan Ecco fatto Finalmente abbiamo finito Mamma mia Che fatica Vero? Che caldo che fa Oddio mio Io non mi sono neanche asciugata i capelli ancora Quella ultima volta che ho fatto video è stata stamattina ma poi dopo siamo stati talmente indaffarati Che non Non ho andato anche in palestra Non ho fatto più video Non mi sono neanche finita di truccare ancora Sì dovevamo ancora comprare delle cose Comunque Che bello Guardate che bello Sono troppo soddisfatta